Superare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità attraverso una serie di misure come le compensazioni e la fiscalità di sviluppo che la Sicilia dovrebbe ricevere dallo Stato. Questo lo scopo del referendum consultivo proposto stamani a Lars dal presidente del gruppo parlamentare dell'Udc Eleonora Locurto insieme al coordinatore nazionale dell'Unione dei Siciliani Rino Piscitello. Il disegno di legge è stato presentato a marzo. Quello che oggi presentiamo è la proposta referendaria che, tra virgolette, dovrà costituire il cavallo di battaglia a sostegno della modifica dello Statuto. Chiederemo ai siciliani se sono d'accordo nell'inserire questa modifica dell'articolo 38 proprio per superare gli svantaggi derivanti all'insularità. E quando parliamo di svantaggi parliamo di cose concrete. Parliamo del fatto che c'è un gap infrastrutturale che determina non soltanto un problema di discontinuità territoriale e quindi di, diciamo, uno svantaggio economico per gli spostamenti, ma parliamo di tutto quello che è conseguenziale a questo. Estensore e promotore della proposta è il vice presidente della regione, Gaetano Armao, che spiega come la questione dell'insularità non è legata solamente all'aspetto della continuità territoriale. Il costo di insularità della Sicilia oscilla tra i 5 e i 6 miliardi annui che i siciliani come tasso occulta pagano, che le imprese siciliane come tasso occulta pagano per essere allocate in un'isola anziché nel continente. Su questo dobbiamo insistere per ribaltare questa posizione, per recuperare le condizioni di insularità attraverso meccanismi che, a certati costi, intervengano per riequilibrare una situazione che danneggia i siciliani e rende ancora più distanti e aumenta il divario rispetto al resto del paese. Grazie.